Una bellissima sorpresa, non ce l'aspettavamo, siamo molto fieri e onorati di questo premio perché sappiamo che Top Legal ricompensa l'eccellenza degli avvocati in Francia ma anche all'internazionale e in Italia naturalmente e dunque veramente ringraziamo la vostra entità di questa ricompensa. Nella sua esperienza anche internazionale sono importanti premi come questo che valorizzano l'eccellenza legale? Sì naturalmente perché per essere conosciuti bisogna essere riconosciuti e dunque naturalmente sappiamo che i clienti e i colleghi esteri guardano le ricompense per potersi scegliere i corrispondenti in ogni paese. Grazie. Grazie.